A tutti gli Autobot. A tutti gli Autobot. Oh mio Dio! Da fuori di testa, cioè è mitico, ma da fuori di testa, no? Oh sì! E vai! È tornato! È vivo! Ottimus è qui! Finalmente, c'è speranza in fondo. Ah ah ah! Sì! Mister Leader della Galassia Libera è tornato! Ah, ma io lo sapevo. Non ne ho mai dubitato. Ci avevi avvertito. Ti attendevamo. E vai, facciamo i botti. Rimettiamo insieme la vecchia banda. Gli umani ci hanno chiesto di stare alle loro regole. Beh, le regole sono appena cambiate.